Questa è una storia conosciuta, è una storia di ciò che sarebbe potuto accadere e per fortuna non si è verificato. È la storia di uomini coraggiosi, gli ufficiali che disobbediscono agli ordini anche a corso della vita dei pubblicari. È una storia di preservazione, del tesoro più grande che abbiamo, quello della memoria. Una memoria fatta di luoghi, fatta di palazzi, fatta di esempi architettonici, fatta di simboli e in fondo anche di un nome. Una città bellissima, meravigliosa, la Villa Lumière, Parigi. Questa è una storia che ha affascinato scrittori, ma anche sceneggiatori e registi. È una storia che ha un titolo emblematico ed è una domanda. Parigi brucia? La nostra storia si apre appunto con questa domanda, in tedesco. East Paris Fairbrand, il tono acuto, quasi stridulo, dell'inconfundibile voce di Adolf Hitler, risuona attraverso il microfono del telefono rivestito in bachelita nera in una stanza al secondo piano dell'hotel Meurice, un elegante palazzo in Rue de Rivoli di fronte al giardino del Tuileries a Parigi. È il 25 agosto 1944, sono le ore 11. Nonostante la tensione e le gocce di sudore dovute al caldo, ma soprattutto a quello che sta avvenendo, il generale Dietrich von Holtitz si sforza di mantenere la calma e di fornire una risposta sensata, che soprattutto eviti conseguenze nefaste. L'alto ufficiale tedesco non si fa illusione, sa cosa avviene a chi contraviene agli ordini abbaiati da Hitler ed è perfettamente conscio di avervi disubbidito. L'unica via di fuga, per lui, per i suoi sottoposti e anche per i suoi familiari che sono rimasti in Germania, con rischio di diventare ostaggi, è rappresentato da una giusta e equilibrata dose di diplomazia mescolata a tattica militare. Siamo alla fine dell'agosto del 1944, abbiamo detto. Da dieci giorni, la meravigliosa capitale francese è il tumulto. Le prime avvisaglie di una vera e propria insurrezione popolare si vedono la mattina del 15 agosto, quando gendarmeria e polizia indicano uno sciopero. La motivazione ufficiale della protesta riguarda il sequestro delle armi leggere, ordiato dagli occupati tedeschi, un provvedimento che lascia la forza pubblica locale completamente in difesa e priva anche di un reale riconoscimento operativo. In realtà si tratta di una motivazione di facciata, una scusa utile, quella adottata da gendarmi e poliziotti, per indire una mobilitazione generale, cui in breve aderiscono impiegati amministrativi, postieri, bigliettari, operatori della metropolitana. Il piano, partorito dal capo partigiano comunista Henri Rottanghi, prevede una paralisi dell'attività ordinaria della capitale per disorientare e mettere in crisi i tedeschi, già abbastanza preoccupati per l'avvicinamento delle forze alleate che due mesi prima sono sbarcate in Normandia. E costretti quindi a intervenire anche a supporto dei servizi fondamentali. Ci mancava solo questa prisa von Koltitz, quando il suo aiutante maggiore gli comunica la notizia dello sciopero. Giunto a Parigi appena sette giorni prima, con il carico di governatore generale della piatta, e dotato di pieni poteri, il generale prussiano non si è mai fatto illusioni sulla reale portata del proprio incari. Il 7 agosto, Hitler in persona lo aveva convocato alla Wolfschanze per la nomina e l'istruzione del caso, specificando nell'occasione che Parigi doveva essere trasformata in una sorta di enorme trincea in cui bloccare per mesi le armate avversarie, anche a costo di raderne al suono. Durante il successivo viaggio in treno verso la Francia, al generale erano state comunicate due novità. La prima riguardava la fornitura di esplosivo, un regalo personale del Führer stesso per facilitare le demolizioni in città. La seconda era l'introduzione indiscriminata della SIPEDAF, la legge della colpa del sague, che autorizzava il regime a prendere in ostaggio i familiari di militari riduttanti o che disobbedivano agli ori. Il 18 agosto, i muri di Parigi si tappezzano di manifesti che chiamano la popolazione all'insurrezione, mentre lo sciopero generale non riguarda solo poliziotti e gendarmi, ormai a seragliati da giorni nella prefettura dove è stata esposta per la prima volta dopo oltre quattro anni la bandiera francese. Ma anche gli operai. La regia è sempre di Rottanghi. Ma anche i gollisti stanno partecipando agli ultimi preparativi prima del confronto diretto con le forze occupanti. Il Maquis, la resistenza francese, è perfettamente informato delle reali capacità delle truppe tedesche in città. Dei 15.000 uomini a disposizione di Folk Holtis, oltre metà è composta da personale di retrovia non combattente, medici, infermieri, curieri, cuochi, personale amministrativo. Inoltre, il Femmarecialo Model ha requisito quasi ogni mezzo blindato moderno, lasciando al suo subalterno appena 80 carri armati, quasi tutti vecchi modelli francesi di preda bellica. Quindi, la prospettiva di una guerriglia urbana ha buona possibilità di riuscire. Anche perché, a differenza della contemporanea rivolta di Varsavia, di cui parleremo prossimamente in un altro video, a Parigi si sa che, a pochi chilometri di distanza, le truppe regolari bolliste mordono il freno per intervenire e liberare la capitale, evitando, ovviamente, un bagno di sangue e rappresaglie da te. Mentre gli artificieri chiedono a Folk Holtis istruzioni sull'utilizzo dell'esplosivo arrivato dalla Germania, Walter Model riceve la telefonata da Rastemburg che gli ordina di partecipare alla difesa ad oltranza di Parigi. Costi quel che costi. Al telefono il Femmarecialo si giustifica, dice Non ho mai pensato ad altro. Per riuscirci avrei bisogno di altri 200.000 uomini e di almeno 6 divisioni corazzate. Risorse che sono inesistenti. Neanche su carta sono presenti. Ed è proprio grazie a questi supposti che Model può risucchiare, fuori da Parigi, le forze migliori, attestandosi sulla somma. Nella sua stazza, l'hotel Maurice Dietrich von Koltis capisce di essere sempre più solo. La mattina del 19 agosto, proprio quando Model posta le sue armate fuori dall'alveo della Segna, lo sciopero, lo sciopero indetto dai francesi, si trasforma in insurrezione. Per le strade di Parigi appaiono barricate improvvisate. Le rare pattuglie tedesche motorizzate sono prese di mira da scariche di fucileria e bombe Molotov, mentre von Koltis continua a tergiversare mantenendo l'esplosivo in deposito. Sa che disobbedire significa condannarsi a morte con le proprie mani, ma proprio non se ne sente in generale di sbriciolare secoli di storia architettonica per accontentare i capricci di un folle dittatore. Nel frattempo ha avuto la notizia della rivolta in città. Un nobiluomo francese implora De Gaulle di lasciarlo avanzare alla testa della propria unità per portare soccorso ai partigiani e liberare finalmente la città. Dopo oltre quattro anni di gioco nazista. Non è semplice strappare un'autorizzazione. D'altronde le forze della Francia Libera sono sottoposte al controllo alleato ed armate con materiale statunitense. Ma la tentazione fortissima di piazzare un colpo sensazionale anche a livello propagandistico, evitando al contempo che i comunisti possano prendersi tutto in merito, è dominante. Alla sera del 20 agosto De Gaulle rompe gli indugi e accontenta le richieste. Philippe Leclerc, ponte di Hot Clock, dovrà eludere il controllo americano e marciare a tappe forzate da Argentà sino a Parigi, alla testa della sua deuxième divisione blinde. A Parigi, la sua mossa procede a singhiozzo. Dopo i primi parziali successi, partigiani e gendarmi stanno esaurendo le munizioni. Sul fronte opposto, i tedeschi tendono le loro forti, evitando scontri frontali, e si limita a cingere d'assedio gli edifici pubblici in cui le formazioni combattenti francesi hanno preso posizione. Con Coltiz non vuole ricorrere le maniere forti e crede di poter tutto sommato contenere la sua mossa. Nel frattempo, si serve del console svedese, Nordling, per trattare una breve tregua che consenta agli assediati di prendere fiato e recuperare i caduti, e i tedeschi di procedere con l'evacuazione. Leclerc, intanto, procede alla sua marcia, ignora i richiami degli americani che gli ordinano di tornare indietro e non mettere a repertaglio la sua divisione con una puntata offensiva apparentemente insensata. Ormai quasi in vista della città, il Conte invia un segnale radio agli insorti radunati dalla prefettura. Resistete, comunica, a breve saremo da voi. La sera del 24 agosto, anche Eike Eisenhower si decide. Capisce che l'occasione è ghiotta e soprattutto che la strada è libera, visto che Model si è ritirato. Anche gli Stati Uniti parteciperanno alla partita con la quarta divisione di infanteria che ha l'ordine di mettersi alle calcagna della seconda blindata e di supportarla tanto nell'avanzata quanto negli eventuali combattimenti. Mettere gli americani rompono gli indulti. Leclerc ordina un reparto esplorato e di aprire la strada a cominciare da Porte Italie. Il primo soldato alleato a Metapie da Parigi è uno spagnolo. Si chiama Amado Granel. È un fuoriuscito repubblicano che guida una compagnia di esuli antifascisti ed è accompagnato da tre carri scermi. Lungo la strada Granel trova una folla sempre più festante e alcune preziose guide, un giovane e poi un armeno, che indicano a lui e al tenente Raymond Drone le posizioni dei tedeschi. Al calar della sera, nel 24 agosto, il reparto esplorato giunge al municipio. Dove ad attendere i soldati liberatori ci sono i capi partigiani, mentre le campagne della città, a lungo silenti, risuonano festose. Alle prime luci dell'alba il 25 agosto, tanti francesi di Leclerc, quanto gli americai e il generale Barton, sono all'interno della capitale. Guidati dalle staffette della resistenza, i tank e i cacciacarri si divincolano tra le strade, alla ricerca dei tedeschi, ingaggiando il combattimento con le poche forze corazzate e nemistiche rimaste in zona. Alle 11, come abbiamo visto, Von Koltitz è nella sua stanza del Berg, ed intorno delle Tuileries. Ha radunato alcune riserve Panzer per affrontare la difesa d'emergenza. Mentre nella sua stanza, risuona il telefono. È Hitler che chiama da Rastenburg. Allora, che succede? Chiede Hitler. Mi dico che gli americani hanno attaccato. Von Koltitz, lei ricorda i miei ordini. Quindi le chiedo, Is Paris Ferman? Parigi è bruciata? Il generale non risponde. Farfuglia finge un problema con la linea e riattacca. Dopo mezz'ora, richiama. Sotto le sue finestre infuria la battaglia, giacché gli M10 Wolverine di Leclerc hanno ingaggiato l'unico Panther rimasto a protezione di Blast della Concorde. Mi dispiace, Mein Führer, dice Von Koltitz. Ho dato ordine di far saltare le cariche, ma i partigiani ne hanno sabotate parecchie. Sento delle esplosioni, ma non so dire con certezza quanti obiettivi siano stati demoliti. Il generale chiude la comunicazione. In tempo per scorgere col binocolo dalla finestra, il Panther immobilizzato da un colpo a bruciapelo sui cingoli e poi speronato e abbordato da uno Sherman con la croce di Lorena in torretta. Parigi è ormai di nuovo francese. I soldati alleati irrompono ovunque. Alle 15.30, Von Koltitz congeda il proprio stato maggiore, chiede un fazzoletto bianco, che con quel panno tra le dita esce dall'hotel Meurice, mentre le ultime sentinelle tedesche a guardia di Rue d'Arivoli alzano le braccia in segno di resa. Portato alla Prefettura e poi alla Garde Montparnasse, il generale firma la resa incondizionata delle forze rimaste al suo comando. Si farà conto dei caduti. La presa di Parigi è costata oltre 1.500 morti al Maquis, più oltre 150 tra le truppe della Francia Libera. I tedeschi denunciano 3.200 morti in combattimento e 12.800 prigionieri, oltre alla perdita ovviamente di tutto l'equipaggiamento, distrutto o requisito. La sera del 25 agosto 1944, il generale Charles de Gaulle fa il suo triunfale ingresso in città, con una marcia sull'avenue de Champs-Élysées, acclamato dalla folga. Nemmeno un falso allarme cecchino distrae il generale, che si gode il suo bagno di folga, pronto a prendersi la scena politica nazionale. Ad osservare quella scena c'è anche Ernest Hemingway, che nelle vesti di cronista di guerra ha seguito da vicino l'avanzata di Leclerc e che in mattinata ha guidato a modo suo la riconquista dell'Hotel Ritz, ordinando da bere per tutti e lasciando, come il suo solito, un conto chilometrico da saltare. Quella sera il grande scrittore sta sorseggiando un Ricard mentre si gode la sfidata di De Gaulle, uno spettacolo ulteriore in attesa dei festeggiamenti che già pregusta per i giorni a seguire. La sorte di Dietrich von Koltitz è invece assai più misera. Deportato in un campo di prigionia prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti. Confesserà ai suoi commilitoni la piena responsabilità nell'aver disatteso gli ordini devastatori di Isla. Liberato nel 1947, tornerà a Parigi nel 1956, visitando come turista l'Hotel Mueris e chiacchieranno in quell'occasione con Pierre Tetejent, già sindaco della capitale durante l'occupazione. Von Koltitz morirà a Baden-Baden nel 1966, vittima di un enfisema polmonare in conseguenza di una ferita di guerra sul fronte orientale. Nella memoria storica resta il suo gesto, estremamente coraggioso, capace di evitare una distruzione drammatica, di preservare un patrimonio dell'umanità, di salvare i suoi soldati e i suoi cari da una morte atroce e di aver disatteso quella domanda a bruciapelo di un dittatore pazzo che voleva rendere Parigi un cumulo di macerie fumati. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS